è stra potente fisicamente è stra potente fisicamente cioè può giocare anche da 5 volendo è un 5 però non è un 5 penso sia 96 5 è un 5 è un 5 è un 5 però non è un 5 penso sia 96 è un 5 è un 5 è 5 chiudemelo e gli aspettano il sono una great di noi vediamo che ai guarda 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.